Salvarci significa scopare, lavorare, studiare. Tre giovani ragazzi sopravvivono a tutto questo, grazie ad un'unica arma. On Joystick! Raga, che si fa? Studiamo? Cominciamo domani. E mo? Start, giochiamo! Va bene ragazzi, però giochiamo online, oggi mi sento più reattivo con questo gioco. Nome utente? Super Riflessi 91. Ragazzi, ragazzi, anch'io sono online, sto diventando un genio con questo gioco. Nome utente? Einstein 92. Ragazzi, ragazzi, anche io sono online. Nome utente? Super Riflessi 90. E perché? Sto diventando scemo con questo gioco. Maulì, lo sai, ieri ho litigato con la mia ragazza. Perché? E quella mi chiama e dice che devo parlarti, la vado a prendere e mi fa aspettare mezz'ora sotto al palazzo. La chiamo e non risponde un'altra mezz'ora sotto al palazzo. Dopo un'ora mi chiama tutta piangendo e mi fa Amore, io ho un ritardo. Oddio, e che hai detto? Amore, io altri dieci minuti aspetto, poi me ne vado. Invece ieri la mia ragazza mi è venuta a trovare a casa e sono rimasto molto sorpreso. Perché? Io non sono fidanzato, ma chi cazzo era quello? E no! Game over! Ma com'è possibile? Il personaggio che ho scelto non fa mai assenza a scuola e lo stesso non viene promosso. È normale. Hai scelto il bidello. Dove siete quelli che non sanno a scuola. Dove siete in avvi. È per colpa vostra che non riesco a finire questo gioco. È per colpa vostra che riesco a finire questo livello. È per colpa vostra che ho finito tutte le vite! Si doveva riavviare. Reset! Mauri. Oh. Lo sai, ieri è successo un mezzo diseguito con papà. Cioè? E quello che entra nella stanza tutto arrabbiato e mi fa Un uccellino mi ha detto che ti trovi. E tu che hai detto? Ah, sì, io mi trogo e tu parli con gli uccelli. Lascia stare, lascia stare che ieri è successo un casino a casa perché è venuto mio nonno a cenare. E allora? E non si è portato gli occhiali. Stava con sto limone in mano che premeva, premeva. E ha detto, guarda, queste ostriche verdi sono talmente grosse e talmente fresche che ancora si muovono. Ho detto, nonno, fermo! Ma perché? Tu stai mangiando una tartaruga! Non si è scattore! Ragazzi, dobbiamo... E che pare? Cioè? Dobbiamo fare punti esperienza per finire il gioco. Missione finale? Vincere la gara di cucina! Giochiamo! Va bene, ragazzi, RBX! Cucino con uno chef di fama nazionale e faccio 100 punti esperienza, sì! Ah, RBX! Cucino con uno chef di fama mondiale, 500 punti esperienza, sì! RBX, RBX! 100.000 punti esperienza! Ho vinto! Ma come hai fatto? Cucina mamma! Cucina mamma! Si doveva spegnere! E comunque basta a te ballottare che dobbiamo studiare! No, 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 studiare no! Non solo! Dobbiamo lottare contro il precariato! Contro la crisi! Per il nostro futuro! Sì! Ma noi cominciamo domani! Grazie! Grazie! Grazie!